Da Gesualdo l'appello di Roberto De Filippis nel comitato referendario per il Sì. Noi invitiamo gli Irpini ad andare a votare a questo referendum, che è un referendum importante e che parla della strategia energetica nazionale di questo Paese. Notizie dell'ultime ore che il Ministro Guidi è stato costretto a dimettersi perché c'erano gli interessi forti che collegavano il proprio compagno con Tempa Rossa e quindi anche la petrolizzazione in terraferma di questo Paese. Questo referendum qualcuno sta provando a dividere i movimenti e tutto quello che oggi significa petrolizzare in terraferma con il mare aperto. Noi invece crediamo che questo è un referendum che prova a chiedere agli italiani una presa di coscienza, una presa d'atto rispetto a quale modello energetico debba affrontare questo Paese. Se è quello dei poteri forti, delle lobby che oggi, come sembra, sono invischiate a mani piene all'interno dello sblocco Italia oppure andare verso una green, una blue economy ed aprire finalmente un periodo di transizione energetica in questo Paese che si metta i fossili alle spalle e provi a parlare appunto di green economy. Il fronte per il no parla di occupazione economica. Come rispondete? I posti di lavoro sicuramente non le dà la petrolizzazione, non le dà la posto Gesualdo 1. In questa provincia negli ultimi vent'anni si sta provando a costruire un modello che viene dal basso, è quello delle cantine, è quello dell'accoglienza, è quello del chilometro zero. È quello che in questi anni l'Europa in realtà ci sta dicendo. Oggi qui ci troviamo a Gesualdo, uno dei borghi più belli d'Irpina. Secondo noi questo Paese va tutelato e la forza reale di questo Paese è il castello, è l'accoglienza, è il chilometro zero. Oggi ci troviamo allora con un quesito referendario che parla sulle 12 miglia marine, sulle concessioni già date e in caso di vittoria del Sì si bloccheranno quelle concessioni all'interno delle 12 miglia marine e alla scadenza naturale delle concessioni date, quindi si dice entro il 2020. La partita che stiamo giocando noi come coordinamento Irpino-Notriv e come comitato regionale per il Sì Campano è proprio questa, cioè di non accettare la divisione tra area costiera o aria interna, ma parlare in toto di un modello di sviluppo che ormai non può più aspettare in questo Paese. Il Governo sta andando verso i fossili con una strategia energetica che è degli anni 60. Noi crediamo che, ripeto, si debba abbiare una transizione verso la green economy. Come vi sembra la posizione del Partito Democratico in Campania e in Irpina? Ricordiamo che una delle regioni che ha votato i quesiti referendari e quindi ci ha portato al referendum è proprio la regione Campania. Stiamo vedendo una reazione molto blanda da parte di questo partito in provincia di Avellino, un partito pesante in questa provincia, al 90% dei sindaci a due parlamentari che tra l'altro hanno votato lo sblocco Italia.